Perché noi abbiamo più anime e più risorse di voi. Voi state aspettando la manna. E non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Merda. Per pensare che stavi andando così bene. Dopo quella non ne azze camona. Lo so, mi dispiace. Non dispiacerti, fa la giusta. Cosa? Oh. Ok, proviamola. Una prova a livello, per favore. Non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Abbasso un po' il microfono. Va bene. Vuole riprovare? Non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Bene così. Ok, incidiamo. Non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Posso farne un'altra? Sì. Non c'è mamma al mondo che salvi una causa... Un'altra volta, scusate. Non c'è mamma. Non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Lo sentiamola. Non c'è mamma al mondo che salvi una causa come la vostra. Perfetto.